Bentornati, martedì 5 febbraio 2019, questa è la settimana dello squat, infatti costruiremo tre heavy set di push press, for time poi avremo quest'oggi un chilometro run, 30 power clean con axle bar, 30 push press con la axle bar e un altro chilometro di run. Pesi e scalature come al solito sulla grafica, ci vediamo domani mercoledì per un'altra puntata di Ciper TV. Buon buon da tutti!